Dalla cultura classica all'Europa romantica, il fascino seduttivo della letteratura greca con la rassegna di alcuni autori greci più amati, più importanti, ma anche la letteratura in musica e per la serie Non ci facciamo mancare nulla, anche una degustazione di prodotti ispirati all'alimentazione del mondo greco-romano per rendere la serata più leggera. Questo ed altro dopo i saluti di rito della preside Bernarda Di Girolamo alla Notte Nazionale del Liceo Classico, un evento di spessore nazionale che coinvolge tutti i licei d'Italia, compreso il Galileo Galilei di Pirimonte Matese, in un'aula gremita di studenti, docenti e genitori a cui l'Istituto Matesino non poteva non aderire. Sì, il liceo non poteva non aderire perché noi crediamo fortemente nell'importanza e nella specificità dell'indirizzo classico, nel senso che pensiamo che soprattutto oggi c'è bisogno di recuperare il passato per puntare al futuro, nel senso che non può esistere un futuro senza passato. Quindi ritrovare la consapevolezza delle nostre origini è fondamentale per avviarci ad un futuro migliore di quello attuale. Infatti i tempi si evolvono, si rinnovano, eppure c'è sempre questo rimando alla cultura classica. In che modo il liceo Galilei intende proseguire con questo legame? Allora, da una parte non rinnegando la tradizione. Si deve evolvere, si deve attualizzare, si deve rinnovare, si deve adeguare i tempi, però non deve neanche rinnegare la sua tonticità e la sua specificità. Quindi recupero degli autori, recupero della lingua, recupero della cultura e della civiltà, ma soprattutto i ragazzi devono continuare a sapere che il liceo classico apre al futuro, ma comporta anche quel sacrificio inevitabile che sta alla base di ogni informazione e di ogni conoscenza. E soprattutto collegando la cultura classica alla cultura scientifica, perché il liceo classico non è un liceo che rinnega le competenze scientifiche, anzi potenzia le competenze scientifiche e le abilità logico-deduttive. Questa serata suggellare ulteriormente l'evento, la presenza del liceo modernè o liceo musicale che continua a dare lustro alla città. Sì, allora la musica è l'espressione del bello e l'estetismo nasce nella Grecia. Nulla come la musica genera quell'armonia e quel rapporto di serenità e di equilibrio col mondo circostante e questa è la sostanza del messaggio che ci viene dalla classicità. Quindi la musica esalta e potenzia il valore della bellezza e del passato. Ma perché uno studente deve scegliere il liceo classico? La nostra Valentina Monte lo ha chiesto alla dirigente scolastica Bernarda Di Girolamo. Sentiamola in questa breve intervista. I motivi sono tanti. Intanto volevo dire che questa sera noi celebriamo la Notte Nazionale dei Licei Classici, un evento che ha coinvolto e travolto trovando l'entusiasmo e il consenso di tutti i giovani ma anche dei docenti della nostra comunità scolastica. Ed è un momento sicuramente di grande riflessione sui temi e su quella che è la cultura classica. Il mondo classico fa parte della nostra cultura, delle nostre tradizioni e non possiamo costruire il presente e il futuro ignorando quella che è stata la cultura classica e quello che è oggi. Oggi più che mai è importante avvicinarsi al mondo classico perché la cultura scientifica ha in qualche modo allontanato l'uomo da quella riflessione umanistica che è importante riproporre, rivalorizzare per capire qual è la dimensione umana e per far sì che l'uomo stesso non si smarrisca in un mondo troppo ipertecnologico. E ad oggi la percentuale di alunni che si iscrivono al percorso classico rispetto magari al passato? Diciamo che c'è qualche piccolo incremento. Un forte incremento noi stiamo riscontrando degli alunni a livello di tutti gli indirizzi di liceo nella nostra comunità scolastica, tant'è che nell'ultimo triennio siamo passati da un numero di iscritti dell'ordine di 700 studenti e abbiamo superato i 1.000 studenti abbondantemente. E dal liceo statale Galileo Galilei è tutto, Valentina Monte per casertasera.it